E' deciso. Il nuovo ospedale di Teramo si farà e sarà realizzato nell'area di Piano Daccio, periferia est del capoluogo Aprutino, al ridosso della Teramo Mare e del centro commerciale Gran Sasso. Costerà 260 milioni di euro e offrirà 50 posti letto per acuti. Una megastruttura che si dovrebbe completare entro il 2028 e che renderebbe Teramo molto attrattiva dal punto di vista sanitario e non solo. L'imprimatur definitivo è arrivato dall'assessore alla sanità della regione Abruzzo, Nicoletta Verì, che ha voluto incontrare personalmente, proprio nella sede dell'Asla Teramana, i vertici aziendali e i rappresentanti politici regionali del territorio. Nel corso della riunione l'assessore Verì ha condiviso la scelta del sito effettuato dall'Asla di Teramo e la necessità di costruire un nuovo e moderno nosocomio per rilanciare l'offerta sanitaria Teramana. Ha poi analizzato nel dettaglio i costi e i modi dell'operazione. Dei 260 milioni necessari ne sono già disponibili 120 risparmiati nel corso di questi ultimi anni. Altri 40 saranno reperiti attraverso fondi statali per l'edilizia sanitaria, ma ne mancherebbero 100 di milioni per raggiungere l'intera somma. Su questo ultimo punto non ci sarebbe ancora una decisione definitiva su come reperire i finanziamenti. Le opzioni potrebbero essere quelle di puntare su un project financing, con il coinvolgimento dei privati, o procedere alla richiesta di altri fondi pubblici. Intanto, contemporaneamente alla riunione che si teneva in circonvallazione Ragusa, si è svolto un sit-in di protesta da parte dei sostenitori del Comitato Promazzini, che hanno ribadito il proprio sì al nuovo ospedale, ma da ricostruire su quello vecchio. Il timore è che l'attuale nosocomio teramano resti una scatola vuota e l'intero quartiere circostante di Villa Mosca possa morire lentamente. Sull'argomento però, il direttore generale dell'Asla di Teramo, Maurizio Di Giosia, è stato categorico. Il Mazzini sarà riconvertito, diventerà la sede di tutti gli uffici aziendali e degli ambulatori specialistici. Non perderà alcuna trattiva.